No, volevo parlare un attimo con loro, ma perché voi vi sbattete così a destra e a sinistra? Non ho capito, non sapete dove andare o ballate proprio così? No, ma solo per capire. Allora, io vado avanti, però state attenti, non voglio che vi fate male, solo per questo, fate piano per favore. Allora, io vado avanti.